Questo video parla del progetto del Museo dell'Informatica Funzionante di Palazzola Crede e del Museo Interattivo di Archeologia Informatica di Cosenza, progetto relativo al recupero di un computer General Electric GE120, che ci è stato segnalato dai fratelli di EZO-COP, il Museo dell'Informatica che si trova in Svizzera, in particolare Sergio e Stefania, che ci hanno contattati per recuperare questo mostro enorme, gigantesco, di computer del 69 della General Electric, che un donatore svizzero voleva appunto donare, ma loro non avevano spazio per conservarlo e l'hanno segnalato a noi, ci hanno aiutato tantissimo in questo splendido recupero, di cui vedrete purtroppo solamente uno slideshow, perché in quel periodo io non facevo nulla su YouTube e noi non facevamo riprese, perché forse non avevamo nemmeno i mezzi necessari per fare delle riprese come ci deve, insomma non lo so. Vabbè, fatto sta che nel 2017 per recuperare questo mostro servivano dei camion, e quindi abbiamo tirato su una raccolta fondi su produzionidalbasso.com per effettuare questo recupero. Qui vedete il sito di produzioni dal basso, con una descrizione di quello che era il nostro progetto di recupero. Il GE120 è una versione evoluta del GE115, con cui sono stati fatti i primi esperimenti di musical computer da Pietro Grossi dell'Istituto di Fonologia di Firenze. Abbiamo avuto un bel po' di donazioni, siamo riusciti a raccogliere un bel po' di fondi, a fare tutto questo megatrasporto. Quelle che vedrete adesso sono le foto del sopralluogo preliminare, fatto per renderci conto del macello che avremmo dovuto realizzare, e successivamente del lavoro di recupero, trasporto vero e proprio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.